Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Inizio settimana caratterizzato dall'arrivo di un nuovo impulso di aria fredda sulla nostra penisola che porterà qualche effetto sull'Italia meridionale. Avremo infatti condizioni di instabilità con qualche nevicata sull'Appennino centro-meridionale anche a quote medio-basse. Tempo invece ancora stabile al centro-nord ma attenzione a nebbie diffuse in pianura padana che potranno insistere un po' durante tutta la giornata. Temperature pressoché stazionarie con minime nei settori interni delle regioni centrali e sull'Italia settentrionale al di sotto dello zero. Dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.